Buonasera Avelino, buonasera Avelinesi, ben ritrovati a questo nostro consueto appuntamento del lunedì. Ormai siamo praticamente entrati nella fase della estate piena e stiamo cominciando anche a organizzare, a immaginare quelle che saranno le attività ferragostane. Nei prossimi giorni avremo anche una riunione sia con la Giunta sia un confronto con i consiglieri per immaginare il cartellone come abbiamo già anticipato, come già avuto modo di dire anche l'assessore Luongo, sicuramente avremo degli eventi un po' diciamo meno affollati rispetto a quello che è accaduto due anni fa. Certamente siamo in una fase nella quale ormai vediamo finalmente la fine della pandemia ma non possiamo dire di averla ancora superata del tutto e quindi certamente offriremo degli spettacoli che saranno incentrati sulla musica, sul cinema, sul teatro e poi come ho già anticipato stiamo certamente immaginando di confermare le luminarie e poi vorrei dare spazio ai fuochi piromusicali perché la tradizione del 15 agosto seppur purtroppo non assisteremo ancora una volta alla processione della Madonna dell'Assunta perché questa è la scelta dei Vescovi Campani ma nonostante l'assenza della processione non vogliamo assolutamente perdere i fuochi che fanno un po' parte della tradizione ferragostana della nostra città. Quindi certamente un cartellone che arricchirà le serate avellinesi, devo dire che sta funzionando molto molto bene eh la chiusura del centro storico, grande partecipazione, grande eh condivisione, non è escluso che in futuro si possa anche un po' allargare il perimetro eh pedonalizzato eh del centro storico anche perché questa città sicuramente eh può essere ancor più vissuta, il centro storico pian piano sta eh prendendo forma e vita e devo dire che eh eh gli avellinesi e gli irpini in generale lo stanno sempre più apprezzando, noto che aumentano le presenze eh di tanti nostri concittadini e non solo anche conterranei proprio nel centro storico i locali stanno eh cominciando nuovamente a lavorare insomma c'è fermento c'è attenzione e devo dire che c'è anche una bella eh location molto caratteristica anche molto affascinante quindi si sta immaginando di allargare ampliare il perimetro dell'isola pedonale nel centro storico in modo da dare maggiori possibilità sia a i clienti insomma a chi eh può fruire dei servizi prevalentemente eh del food che il centro storico offre sia proprio ai commercianti che eh possono anche organizzare degli angolini molto caratteristici così come hanno fatto fino a questo momento parlavamo del covid sabato ci sarà questo camper stiamo ragionando con per immaginare la location presso la quale ubicare il camper serve vaccinarci eh stiamo andando finalmente a ritmo spedito aumentano ogni giorno eh il numero dei vaccinati anche io personalmente eh verso metà luglio mi eh sottoporò alla seconda iniezione quindi anche io farò la seconda dose quindi sarò vaccinato anche io questo è l'unico strumento è eh l'unica ancora eh di salvezza che abbiamo il vaccino quindi anche rispetto agli indecisi mi raccomando andate a vaccinarvi ormai si può vaccinare in pratica sempre anche il camper rappresenta oggettivamente un'altra occasione utile fondamentale proprio per vaccinarsi sabato mattina eh sarà allestito all'interno insomma del perimetro centrale della città credo nei pressi di Corso Vittorio Verde stiamo ragionando rispetto a un luogo che sia anche abbastanza fresco comunque è una cosa che assolutamente eh dobbiamo fare eh un'altra segnalazione nel frattempo Maxi Schermo Piazza Libertà domani sera no al momento eh non è ancora prevista alcuna installazione del Maxi Schermo poi magari vediamo ragionando anche con eh il prefetto con la questura con le forze dell'ordine vediamo se dovesse esserci un seguito come tutti auspichiamo facendo debiti scongiuri vediamo poi magari eventualmente eh se ci sono le condizioni per organizzare un evento eh in città però con calma nel frattempo giochiamo la semifinale e poi dopo vediamo cosa eh accade eh no non ci occupiamo naturalmente da lì da solo del centro anzi devo dire che eh io sono uno dei sindaci più attenti nella storia eh del comune alle periferie e abbiamo immaginato per ogni periferia una strategia anche di sviluppo evidente guardate che la vicenda covid che dura da quasi un anno e mezzo in qualche modo ha rallentato l'azione amministrativa noi abbiamo chiara in mente l'idea di città io ho immaginato insieme alla giunta insieme al consiglio una strategia di sviluppo per ogni quartiere a Borgo Ferrovia abbiamo eh ripreso il la bonifica dell'ex isochimica che dovrà essere completata ci auguriamo entro l'autunno realizzeremo lab eh per i pullman quindi interscambio eh tra trasporto su gomma e trasporto su rotaia il campo sportivo e il campo scolastico a Bellizzi vogliamo lavorare per eliminare quei prefabbricati che ormai oggettivamente sono in condizioni penose e immaginiamo anche di realizzare una variante che possa consentire di evitare quella salita anche molto pericolosa soprattutto quando c'è maltempo e c'è neve una variante eh che tagli nei pressi del ristorante eh nella curva e comunque stiamo realizzando anche ulteriormente un campo sportivo che può essere utilizzato dai ragazzi a Picarelli sarà realizzata la tendo struttura eh in piazza eh adiacente alla scuola eh elementare ci sarà questa tendo struttura che sarà utilizzabile sia dai ragazzi di Picarelli che frequentano la scuola sia dal circondario in modo da rendere vivo anche il quartiere nel frattempo stiamo completando i due edifici delle case comunali e sta per partire l'housing sociale su eh San Tommaso tanto è stato fatto ma dobbiamo eh effettuare ancora qualche intervento di completamento della riqualificazione del quartiere in particolar modo stiamo lavorando su via Don Luigi Sturzo che ha bisogno certamente dei interventi parlo del campo e parlo anche della stradina interna del muretto eh che eh diciamo confina con la parte di campagna oggettivamente dice bisogno di eh intervenire Rione Mazzini abbiamo realizzato il parco giochi per i bambini eh interverremo sul campo che storicamente ha rappresentato una attrazione per il quartiere abbiamo aperto un presidio sociale sia con eh l'associazione Tantam sia con la protezione civile stiamo immaginando anche un centro eh sanitario Rione Parco riconsegniamo finalmente la scuola al quartiere riaprirà la scuola eh elementare a Rione Parco prima è stata chiusa io ho fatto una scelta specifica chiudere le scuole nei quartieri rappresenta una sconfitta non solo per l'amministrazione ma una sconfitta per l'intera comunità e io quindi ho voluto fortemente riaprire il plesso di Rione Parco che quindi sarà eh riutilizzato insomma vi ho dato uno scenario un quadro chiaro di quelle che sono le strategie anche rispetto eh a le periferie rispetto ai quartieri poi c'è anche il centro ci mancherebbe perché noi immaginiamo di riqualificare di lanciare tutta la città in particolar modo tutti mi segnalano via Francesco Teresco noi stiamo per appaltare il tratto di rifacimento eh stradale poi parliamo anche di via Amatucci rifacimento stradale che va dalla dogana al convento di San Geroso. Via Amatucci noi stiamo per acquistare eh degli alloggi a piazza Garibaldi perché ci manca lo spostamento eh dei degli assegnatari eh cosiddetti articolo ventuno bis perché vogliamo destinare gli alloggi di piazza Garibaldi a gli articolo ventuno bis di via Amatucci in modo da liberare le ultime famiglie che occupano gli alloggi eh di via Amatucci così da poter provvedere all'abbattimento e alla ricostruzione. Lo dicevo appunto parlavo di via piazza Sturzo oltre che via dologgi Sturzo come veniva segnalato il centro per l'autismo mi chiede Carla guardate io spesso lo racconto l'ho detto a pecora pecora che ho incontrato a solo scusami da quindici anni dieci anni no quindici anni quasi sedici il centro per l'autismo non parte ora se il sindaco festa lo farà ripartire magari ci avrà messo un anno invece di sei mesi per carità ma una volta che avrò fatto ripartire io non voglio meriti ma ci sarà un dato per sedici anni non è ripartito sotto la mia amministrazione riparte questo allora criticatemi se le cose poi non le faccio ma se dovessi come mi auguro riuscire a realizzare questi interventi e a concludere tutte le incompiute noi abbiamo già finalmente riaperto Piazza Castello che da nove anni era chiuso riaperto il mercatone che da trent'anni era chiuso stiamo per riaprire il tunnel che da venti anni è chiuso di che parliamo consegneremo certamente gli alloggi comunali di qui a breve sì ma sindaco ci avevi detto che l'avresti fatto sei mesi fa ma sono vent'anni sono vent'anni che queste cose non si fanno a volte anche trenta e vi lamentate se poi un sindaco impiega due anni invece di uno tenuto conto del fatto che abbiamo vissuto da un anno e mezzo il covid io capisco che c'è qualcuno che cerca il cavillo per fortuna guarda io scendo per strada e realmente registro un grande affetto un grande amore da parte e anche grandi amici grande calore da parte della mia comunità questo mi gratifica mi dà la forza per andare avanti e sono convinto che noi realmente questa città la faremo rialzare la faremo riprendere la rilancieremo perché ne abbiamo le condizioni e stiamo provando a rimettere tutto a posto consapevoli parliamo anche poi di rione aversa consapevoli evidentemente che abbiamo trovato in alcune situazioni una condizione disastrosa ma soprattutto per questioni burocratico amministrative ingarbugliate complicate alcune aziende magari fallite che avevano ceduto il ramo d'azienda alcune alcuni contenziosi pagamenti mai effettuati insomma un macello totale siamo andati con pazienza a risolvere puntualmente ogni vicenda e pian piano nonostante il covid stiamo completando tutti gli interventi la metro leggera da venti anni dal duemila duemila uno sono venti anni noi ormai siamo prossimi a farla partire saranno dati chiaro che serve tempo noi parliamo dei primi due anni di amministrazione e di un anno e mezzo di covid questo è il tema in due anni sei sette mesi tranquilli e poi emergenza pandemica affrontata dall'altro alla grande con i tamponi gratuiti con una grande operazione di prevenzione di monitoraggio con le scuole chiuse che cosa che ci ha consentito comunque di limitare al minimo i danni rispetto alla diffusione del contagio questi sono i dati guardate io vengo e ve li enuncio elencandovi uno ad uno perché poi questi sono i fatti poi sindaco festa potrà essere simpatico antipatico a qualcuno a volte può essere un po' guascone a volte può essere un po' scientemente sopra le righe perché a volte serve anche far clamore per farsi sentire però poi ci sono i fatti i fatti parlano chiaro noi stiamo rimettendo a posto la città e abbiamo trovato una condizione complicatissima anche rispetto ai buchi neri parliamo di case che sono in quelle condizioni da 40 anni e nessuno ha mai provato non sono mai avuto il coraggio di provare a mettere mano ad esempio al corso a corso vittorio manuele c'è sempre stata questa idea che non si potessero toccare alcuni edifici alcune abitazioni alcuni palazzi noi interverremo sia su via francesco del disco sia su corso vittorio manuele sia su via l'italia perché è indecente che ci sia questa condizione in città assolutamente antiestetica via visconti stefania io comunque dieci giorni fa ho fatto rifare un po' di asfalto a via visconti c'è chiaramente il parco che grazie al vescovo io ringrazio sempre vescovo arturo su eccellenza vescovo arturo per il dono straordinario che ha fatto alla città di comunque manuteniamo il verde ma era eccellente grazie all'impegno dell'assessore negrone abbiamo rifatto l'assalto visconti certo mi potrei dire sono degli alloggi che non godono di grande saluto ma se hanno fatto delle costruzioni oggettivamente non eccellenti va diciamo così usiamo un eufemismo che lasciano desiderare certo non è che la responsabilità è del sindaco festa che oggi si insedia bisognerebbe intervenire stiamo provando anche a vendere un po' di patrimonio immobiliare comunale proprio per avere soldi quattro grano è un esempio affonso per avere soldi per intervenire quattro grano guardate noi abbiamo effettuato l'intervento lì ci sono 16 edifici 5 6 5 più o meno questa è la distribuzione entrando dalla travessa che si prende di fronte diciamo la casa sulla roccia noi abbiamo fatto un buon intervento sulla sinistra entrando 5 edifici stiamo completando i 6 a destra e poi gli ultimi 5 in fondo comunque quattro lana S è stata riqualificata poi abbiamo il contratto di quartiere per quattro lana Ovest e abbiamo un intervento da circa 4 milioni di euro di lavori da appaltare per rifare quattro grana Ovest realizzando anche un centro polifunzionale perché non basta di fare le case bisogna ricostruire ricostituire una comunità e senza un centro di aggregazione quattro grana ha bisogno di un centro di aggregazione senza un centro che possa rappresentare un luogo di ritrovo per gli abitanti della zona certamente non si può ricostituire una comunità stiamo anche immaginando di avviare attività commerciali di prossimità di vicinato proprio nei locali commerciali di quattro lana perché anche le attività portano socializzazione e anche vita all'interno del quartiere sto vedendo un attimino via nicolodi via nicolodi certamente lì c'è la vicenda tra via nicolodi e vedevenuta noi vogliamo destinare gli alloggi di vedevenuta a tutti i proprietari dell'articolo lontano bis di via nicolodi in modo da sicuramente dare a queste persone un'opportunità di avere una casa nuova ma anche per il comune di incassare soldi per manutenere questa è una buona gestione che stiamo chiaramente portando avanti c'è una sporcizia in giro roberta certamente guarda però c'è un tema la sporcizia noi abbiamo un grande facciamo un grande lavoro con gli operatori ecologici però serve anche la collaborazione da parte delle persone che se continuiamo a sporcare le strade o a non controllare i nostri cagnolini è chiaro che poi abbiamo un lavoro maggiore che devono effettuare gli operatori ecologici insomma serve una collaborazione da parte di tutti bene io direi che per stasera è davvero tutto anche perché il caldo aumenta qui a casa chiaramente non ho l'aria condizionata ma va bene così tutto bene ci riaggiorniamo l'oledì prossimo buonasera a tutti grazie grazie grazie